Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri al Quirinale il Presidente della Repubblica di Finlandia, Saul Inistro, in visita di Stato in Italia. L'incontro quest'oggi si è trasferito invece a Napoli, una visita che durerà solo poche ore ma che prevedrà un programma intenso soprattutto per gli ospiti. Il Presidente finlandese è giunto in giornata in città separatamente rispetto a Mattarella e si è recato in visita alla base Nato di Giuliano Lagopatria, sua moglie invece ha visitato il Museo Mann. La visita alla base di Giuliano è un modo per la Finlandia che ha aderito alla Nato lo scorso 4 aprile per consolidare i rapporti tra il paese scandinavo e i membri dell'Alleanza Atlantica. Nel pomeriggio poi l'incontro a Villa Rosberi con una colazione offerta nei locali della Grande Foresteria. In serata il capo di Stato italiano ha raggiunto poi Genova mentre la coppia presidenziale finlandese trascorrerà la notte in città in uno degli alberghi del Lungomare. Il Presidente Mattarella tornerà a Napoli il prossimo 13 novembre per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In quell'occasione ci sarà anche il taglio del nastro per l'inizio dei festeggiamenti degli 800 anni dell'Ateneo Federiciano. Operazione all'alba a Napoli, Aversa, Minturno, Merito di Napoli, Curti, Piano di Sorrento e Servignano, dei carabinieri della compagnia Vomero che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Napoli. I destinatari di tale misura, assieme ad altri 23 indagati in stato di libertà, sono indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, con fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e ricorso a certificati medici Fasulli. Le attività coordinate dalla Procura partenopea e condotte dalla Stazione dei Carabinieri in Napoli in Marianella sono frutto di approfondimento su un materiale già sequestrato nel corso dell'esecuzione di una prima ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere dello scorso primo marzo. In particolare le indagini hanno consentito di delineare il modus operandi del sodalizio all'interno del quale erano ben definiti i ruoli di capi, promotori e partecipanti. Tra questi figurano anche due avvocati e diversi medici, tra cui quattro in servizio negli ospedali, mentre altri due operavano in centri diagnostici privati. I Negri Amaro torneranno in concerto negli Stadi d'Italia nell'estate 2024. Il tour partirà il 15 giugno a Napoli. Per la prima volta la band pugliese suonerà allo stadio Diego Armando Maradona. Un tour negli stadi dopo sei anni per raccontare un nuovo capitolo della storia musicale della band. La tappa di Napoli sarà anche l'occasione per ricordare Pino Daniele. Giuliano San Giorgio e la sua band in questi giorni hanno regalato a turisti appassionati a un fuori programma, tra le strade di Napoli, intonando le più famose canzoni di Pino, nei luoghi iconici della sua vita, tra cui Piazzetta Santa Maria la Nova. Per noi è stato sempre il più grande dei sogni suonare allo stadio. Oggi scherzavo, dicevo San Diego Maradona così rimaniamo nei Santi, San Siro San Giorgi. Però anche ieri è stato incredibile. Abbiamo scelto di omaggiare Pino Daniele proprio perché è la prima volta che faremo la cosa più grande che potessimo fare in questa città incredibile che è Napoli, cioè suonare allo stadio. A Palazzo San Giacomo la presentazione del concerto evento ma anche di un progetto di vicinanza e di recupero dei ragazzi della città che vedrà impegnata la band. La soddisfazione nelle parole del primo cittadino Gaetano Manfredi. Il concerto di Negramaro che noi abbiamo fortemente voluto e ho chiesto a Giuliano San Giorgi in maniera insistente di partire da Napoli lo rappresenta benissimo ricordando Pino Daniele, una grande band del sud coinvolgendo ragazzi che si formano, che potranno partecipare addirittura al concerto. Quindi una grande forza della musica come strumento di inclusione e una grande Napoli che ha una identità musicale straordinaria, grande qualità. Io, tu, noi, dall'incontro alla relazione è un progetto organizzato dal Festival della filosofia in Magna Grecia che sta riscontrando grande successo in tutta Italia dopo l'iniziativa pilota realizzata con il liceo Magnani di Roma per dare valore al ruolo della scuola come agenzia formativa di relazione, di creazione di cittadini responsabili, elemento fondamentale anche per combattere la grave piaga dell'evasione scolastica che soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia raggiunge percentuali ormai ritenute inaccettabili. Grande riscontro ha ottenuto l'ultimo progetto realizzato insieme al liceo scientifico Fermi con il coinvolgimento di mille studenti presso la fondazione Alario ad Ascea. Il progetto è stato illustrato nel corso di una tavola rotonda alla quale sono intervenuti il presidente del Festival della filosofia in Magna Grecia Giuseppina Russo e il responsabile scientifico Salvatore Ferrara. Sì, il PNRR in particolare nella misura 1.4 ci offre questa possibilità di utilizzare appunto dei fondi affinché questa comunità educante che è formata naturalmente sia da enti del terzo settore, quale appunto l'Associazione Festival della filosofia in Magna Grecia e i licei che si fanno promotori di queste azioni come il liceo Fermi di Aversa che ci ha coinvolto in questa attività di apertura proprio alla comprensione di come contrastare proprio la dispersione scolastica. Questo progetto è rivolto soprattutto ai ragazzi che entrano, che cominciano un nuovo viaggio, quello della scuola secondaria di secondo grado, un viaggio quinquennale che potranno percorrere al meglio se hanno avuto il coraggio di incontrarsi già prima ancora che questo viaggio possa cominciare, cioè questa parte introduttiva fondata proprio sulla conoscenza reciproca. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.